108, bravo! Bravo Jean Franco! Bravo Jean Franco! Numero 4, decoration, ses oxai! 4 увид Excellent! 38, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20. 92 e 40, chiude questo gruppetto, con il numero 100 conclude la sua prova seguita dal 92, 30, Cimadori Paglia, 35, terminando lui la sua prova, ragazzi, 99, con il numero 100 najle, con il numero 100, con il numero 100 abajo, con il numero 36 all'alito, Michele Bracchi, 32, bravissimo, bravi,